Il Giviborgo versione migrante riparte da San Giuliano Terme dove ospita lo Scandice, la prima di segare casalinghe che rimangono da qui alla fine della stagione. Fanani si ritrova con qualche assenza di troppo, Borgia, Barretta e Pane, ma c'è l'importante recupero di Pagano. Buon ritmo in avvio quello impresso dai Biancorossi, Giviborgo pericoloso con il rientrante Pagano, il cui sinistro viene ribattuto dal portiere Fiorentino. Subito dopo vanno vientando in Pagano e Taddeucci che combinano, bella azione che però De Gori spreca in modo clamoroso. Minaccioso anche Russo, ma il Giviborgo non riesce a sbloccare il match. Così all'incedere del quarto d'ora è lo Scandice a portarsi in vantaggio con Alderotti che uccella al portiere Fontanelli. Gelo sul bui per i tifosi del Giviborgo. Al ventitresimo ancora gli ospiti insidiosi con Donnini che calcia in modo sbilenco ma si accende una mischia col pallone che esce poi ad un soffio. La squadra Biancorossa che ha accusato il contraccolpo del gol subito si rivede solo dopo la mezz'ora. Assist di Pagano per Ballardini con l'ex lucchese che calcia al volo ma il pallone si perde altissimo. Altra tegola per Fanani che perde Pagano, di nuovo cappò ed era rientro. Al suo posto dentro Cecchini. Nella ripresa il Giviborgo riparte forte, al terzo e al quarto ci prova due volte Russo. Prima il giovane attaccante viene anticipato di giustezza dal portiere. 60 secondi più tardi il suo tiro da dentro l'area di rigore risulta troppo centrale e viene neutralizzato in due tempi. Il Giviborgo produce il suo massimo sforzo. Su cross dalla destra, Taddeucci gira di testa ma Dario si salva con l'aiuto del palo. Al dodicesimo punizione magistrale di De Gori ma Dario compie ancora una strepitosa parata. Dentro anche Berzolla nel tentativo di scardinare la difesa dello Scandicci ma sono ancora gli ospiti a confermarsi micidiali. L'azione si sviluppa sulla sinistra mentre la zampata vincente è di Betti per il punto del raddoppio. Ora è davvero durissima. Nel finale in effetti il Giviborgo non ha le disorse né fisiche né mentali per riaprire la partita che si conclude col successo per 2-0 di un cinico e pratico Scandicci. Si interrompe così la stratosferica serie della squadra di Fanani che mercoledì sarà di nuovo in campo per il recupero di Spoleto.